Poi entra all'interno del mondo del cinema, un po', a poco a poco si è trasformato in quello che Tarantino ha iniziato a fare recentemente, sia con Once Upon a Time in Hollywood, c'è una volta a Hollywood, e probabilmente sarà molto simile, io te l'ho detto appena ho saputo la notizia di The Movie Critic, ti ricordo che ti ho mandato un messaggio, ti ho detto adesso lo vogliamo querelare questo qui. Tanto c'ha la moglie israeliana, sono sfondati di soldi, dice ma lui già ce l'ha, sì, ma figura di la moglie, vabbè comunque. E poi regalo, facciamogli leggere le mie cose, che magari gli piacciono. Non è escluso infatti, non è escluso, anche perché credo che Tarantino, fatemi di una cosa, adesso entriamo in zona Tarantino, sicuramente tutti siamo spaventati del fatto che Tarantino non farà più film. Signore, come on. Ma secondo te, Tarantino smette di fare, eccolo lì, eccolo lì. Bellissimo libro, scusa. Sì, 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 sì. Ne parliamo sempre bene, ne parliamo bene, poi cominciamo pure a parlare male di Tarantino, cioè questa rubrica è diventata molto interessante, perché poi gli facciamo anche delle critiche ogni tanto così perché lui si mette in una posizione molto amichevole all'interno della sua scrittura, cioè è stato bravo perché è riuscito a non essere pesante, no? E questo è un grandissimo merito, assolutamente. E poi è un libro ibrido, perché non è una critica paludata, un librido, mi piace. Non è neanche un romanzo, però è anche un buon romanzo, proprio grafico, perché racconta se stesso. Sai cosa mi ha fatto pensare? Mi viene in mente adesso, ha un writing di Stephen King, che lui dice, io devo fare un manuale di scrittura, scrittura, però la scrittura per me è la vita, lui dice, la scrittura per me è vita, è quello che mi ha parlato, quindi io non posso non parlare dello scrivere senza parlare di me stesso, perché è la mia vita, e quindi lui fa così, cioè il cinema è una cosa che non è distrutta da Quentin, quindi lui deve per forza raccontare di quando sua mamma l'ha portata col fidanzato di colore al cinema a vedere quel film violentissimo che tutti gli altri suoi amici non potevano vedere, e lui doveva fare il bravo, non doveva rompere le palle, se no non lo portavano più. Infatti è bellissimo quando dice, quando sei bambino devi sapere che solo di giorno puoi piangere, rompere le scatole, eccetera, di sera quando ti portano a fare le cose dei grandi no, perché se no poi non ti portano più, quindi devi fare il bravo, è simpaticissimo. È bello perché adesso è diventato anche papà Kentin, insomma ha due figli adesso, un maschietto e una femminuccia, quindi anche si percepisce questo, credo che lui abbia voluto anche andare più lentamente nella sua vita, tuttavia diciamo la verità, insomma Kenti Tarantino farà The Movie Critic, ha già detto più o meno di quello di cui parlerà il film, ovvero di questo critico cinematografico che scriveva su delle riviste porno, però poi ha... Poi se vogliamo anche una rivista come Playboy era erotica, però non era una cosa così strana che ci fosse... Sì, 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 adesso non so quale... Infatti che parlerà di... intendeva porno, però intendeva Hassler o tutta quella roba lì, insomma c'era una via di mezzo, però, insomma, racconta... questo sarà il suo ultimo film da regista, non ho capito se sarà un horror o meno o una commedia, vabbè comunque... Ma un horror non lo so, dai, io vorrei, ma ho timore... Io me lo immagino una cosa con un po' il mood alla Poltoma Zenderson di... come si chiama? Non so, appunto è la lingua... quello di Poltoma Zenderson basato sul attore... Boogie Nights? Eh? Boogie Nights? Boogie Nights, esatto, scusa, un momento qui... Eh, ma non so, mi immagino un'atmosfera alla Boogie Nights, anche perché ci vedo dei punti in comune tra Quentin e Poltoma Zenderson, quindi... Sì, sì, poi sono molto amici, anzi, io quello che penso è che Quentin Tarantino, che è il regista più famoso del mondo, e nessuno ha la sua carriera, ha impattato quanto a lui nella sua carriera, però in qualche modo lui abbia una forza... Cioè, credo che loro si invidino a vicenda, e quindi uno dice, ah, io vorrei essere famoso come te, avere il successo che ho avuto tu... Lui dice, ah, io vorrei fare i film come li fai tu, insomma... Si percepisce che Quentin Tarantino... Ricordi quando tu mi avevi detto che non avevi visto alcuni dei film di Poltoma Zenderson, io ho detto, guarda, guardali, perché capirai anche delle cose del percorso di Quentin Tarantino. È una cosa bella del cinema di Quentin Tarantino. Sì, ci sono molti influenzati, indubbiamente. Sì, a vicenda, esatto, esatto. E tra l'altro, insomma, si racconta anche di parti cinematografici che fanno tra di loro, insomma, un po' megalomani, vabbè, sono due personaggi un po' strani. Io amo in particolare Poltoma Zenderson, soprattutto The Master, e Magnolia, Magnolia è il film della mia vita, però... Ah, Magnolia. Sì, sì, Magnolia è un grande film del cuore. Però la cosa interessante che ho notato adesso con Quentin Tarantino è che, mano a mano che continua a vedere i suoi film, continua a conoscerli più come persona. Nel senso che magari prima li vedevi, almeno io li vedevo come entertainment, poi magari a livello tecnico, in tante maniere diverse. Adesso, stranamente, anzi, mi sento quasi stupido, però ho capito che i suoi film alla fine parlano di se stesso, parlano di cose che aveva vissuto lui. Chiaramente, Jackie Brown parla delle esperienze di sua madre, ma anche, ma sin dalle iene... Tra l'altro c'è un tizio che io vedo ogni settimana, un tizio americano, che lui, te l'avevo detto, lui conosce... Una volta lo devo invitare qui, solo che bisogna fare la trasmissione in inglese. Questo tizio conosceva veramente Quentin Tarantino, ai tempi di My Best Friend Birthday, che è il suo primo film indipendente. E chi è questo? Un regista? No, lui è una specie di produttore, lui mette in mezzo la gente, diciamo, per fare le cose, lui ha fatto una parte, perché è un personaggio pure, è stato molto bravo, è proprio tipo Los Angelino al 100%, Ho fatto una parte nel mio film e lui ha la stessa età di Tarantino, però vive qui in Cina e insomma, mi ricordo una volta mi aveva parlato, però parlava molto tranquillamente di queste cose. No, perché, tanto, ovviamente lui non ci parla con Tarantino da una vita, però diceva sì, no, spiegava tutti i giri dove se la facevano, dove la gente si incontrava, che tipo di persona era Quentin Tarantino, secondo me Quentin Tarantino è cambiato molto, cioè, dalle Iene si percepisce come una persona che sta esplodendo e che sta cercando di fare il colpo grosso della sua vita, un po' le Iene parla dell'industria cinematografica in sé, dell'esperienza di uno che sta facendo un film o comunque sta vivendo quella cosa lì, e così andando sempre più avanti nei suoi film, secondo me Gilbil parla del suo rapporto con la ragazza di cui si era innamorato, che poi era Uma Thurman veramente. Questo l'avevamo sospettato, ma penso di sì, dai, si vede, mi ha resa troppo figa per non essere innamorato, diciamolo pure. Eh sì. Perché ormai tutti pensano Uma Thurman, l'associano a quel film, anche se viene affatti tanti prima, dopo, però Uma Thurman è più di tutto Kill Bill, anche più di Pulp Fiction. Sì, prima di Kill Bill te la ricordavi per Pulp Fiction al cento per cento, però insomma adesso ovviamente quel tour de force che ha fatto, e ecco questa cosa del fatto che si vede che il regista è innamorato dell'attrice, cioè la lente risplende sul volto dell'attrice, è qualcosa che si percepisce anche in Daisy Miller di Peter Bogdanovich, il film insomma del capitolo di cui parliamo stasera. Io so che tu hai anche letto il romanzo. Sì, è un romanzo breve, tra l'altro, per tornare al nostro discorso precedente. Il romanzo è bellissimo, è vero che il romanzo è bellissimo? A me è piaciuto molto, mi è piaciuto molto la cosa incredibile è che se uno vede il film si accorge che ci sono tutti questi dialoghi nel film di Bogdanovich che ricordano un po' Susanna di Ox, che è un altro mio caldo a parte il nome, e poi sappiamo che Bogdanovich era un grande amante di Howard Ox, perché lo cita pure nell'ultimo spettacolo, e comunque ci sono questi dialoghi molto frizzanti della protagonista con il protagonista. E la cosa incredibile è che se tu poi pensi che li abbia scritti Bogdanovich, poi leggi il romanzo di Henry James, che è comunque uscito a fine dell'Ottocento, in epoca vittoriana, e sono quelli. Quindi questa cosa mi ha meravigliato, perché è veramente un romanzo molto moderno, secondo me è un romanzo da leggere. Poi è bello scoprire dei libri, anche perché ce ne parla Tarantino, cioè io Daisy Miller non sarei mai andata a leggerlo. Poi mi ha incuriosito questa cosa. Io amo molto di Henry James Giro di vite, che secondo me alla fine è un po' la pietra miliare dell'horror. Io penso che non puoi scrivere horror se non hai letto Giro di vite. Io la vedo così. Per quanto riguarda Daisy Miller, allora, per quanto riguarda il discorso che hai fatto sui dialoghi, io non ho letto il libro, ma non ho fatica a capirlo, perché la caratteristica che poi Tarantino si è messo a parlare di Bogdanovich, perché Bogdanovich ha vissuto a casa di Tarantino a lungo e Tarantino l'ha spremuto e si è fatto raccontare un po' di aneddoti. Ci sono due caratteristiche fondamentali dalle quali Tarantino ha tinto comunque che hanno inflezzato Tarantino da parte di Peter Bogdanovich o se vogliamo insomma li accomunano. Allora, uno è il fatto della cinefilia, ovviamente in maniera diversa, però Bogdanovich, soprattutto nell'ultimo spettacolo, ma comunque in tutta la sua carriera, ha giocato con il cinema, come per dire il cinema non esiste più, il cinema è già morto, adesso si parla tantissimo del cinema che è morto, insomma lui lo dava per morto già quando iniziava a fare film e in realtà se muore così è meglio, perché comunque sappiamo che è sempre una resurrezione, però insomma lui aveva questa caratteristica, tant'è che comunque io all'ultimo spettacolo me lo so rivisto recentemente, visto che aspettavo di poter andare in live ed è un film veramente assurdo, cioè è un film veramente delirante. Io l'adoro. E c'è, tra l'altro, scusa, Sibyl Shepard ritorna in un personaggio che somiglia molto a Desi Miller nel personaggio di Jesse, se vogliamo, dell'ultimo spettacolo, perché sono due donne anticonformiste, due ragazze anticonformiste che vanno un po' contro la morale, Desi Miller contro la morale vittoriana dell'epoca e Jesse contro la morale di questo paesino abbandonato in mezzo al nulla che fa un po' la civetta, però poi ti accorgi della sua fragilità, no? Sembra molto così, un po' presuntuosa, un po' e poi alla fine ti accorgi delle sue proprie. Quindi sono due figure molto delicate e Bordano, invece, io penso che sia stato attratto da Desi Miller anche per questo. Una cosa poi incredibile, vabbè, finisci, poi volevo dire una cosa interessante proprio sul romanzo di Desi Miller. No, riguardo al film faccio in breve un po' il cappello di com'è nato, nel senso che Bogdanovic ha avuto un grande successo con l'ultimo spettacolo, un successo in aspettato, perché non è un film commerciale, non è assolutamente un film commerciale l'ultimo spettacolo. In più, fondamentalmente, lui ha mandato all'area tutto quanto perché, chiamolo idiota, però insomma si è innamorato di Sibyl Shepard e insomma che all'ultimo spettacolo era, insomma, la sua prima interpretazione. Sì, sì, insomma, lui è andato fuori di testa, è diventato uno dei registi di punta di Hollywood all'epoca, tant'è che c'erano lui, Woody Allen e Francis Forcoppola che hanno aperto la casa di produzione insieme. Allora, Bogdanovic si trovava nel momento in cui poteva fare tutto ciò che voleva, cioè aveva il potere produttivo totale e lui ha fatto sto film, che è una cosa assurda, ma in realtà, insomma, io poi ragionandoci su, ci sono stati nel frattempo delle, per fortuna in realtà non abbiamo, l'abbiamo fatta subito quella live perché poi sono successe delle visioni nel frattempo che mi hanno fatto riflettere. Però lì per lì, capito, Daisy Miller a me mi ha dato, non è che è brutto perché alla fine è interessante. È un bellissimo film, non ti è piaciuto Daisy Miller? No, ma come ti dicevo, l'ho trovato un po' inconsistente, purtroppo ho avuto questa sensazione, anche se ci sono delle cose bellissime, però l'ho trovato inconsistente perché l'ho visto come una, come se avessi visto una costante erezione, capito? Cioè un film in cui lui stava lì completamente tutto preso da se stesso, eccitatissimo e chiaramente poi totalmente preso dalla sua, ed era un po' una cosa, diceva, ma sì, ma di sta roba chi se ne frega? Ma subito sì, ma com'è che dobbiamo farci? No, però arrivi al finale e non spoileriamo nulla, però un finale inatteso, se vogliamo. Sì, sì, ma... Sì, è anche costruito in un modo, come dici, tu puoi essere un'erezione, una cosa tutta festosa, commediosa, tutta brillante, poi però le cose, è un po' come vedere anche l'ultimo spettacolo, è più decadente l'ultimo spettacolo, però man mano avverso questa necrofilia e se vogliamo anche Daisy Miller a questo lato molto, questo lato scrittura, l'improvviso si trovi scaraventato in questo aspetto oscuro, senza rendertene conto. A me questa cosa mi ha colpito molto, nel senso che... Vorrei che dicessi, infatti, il tuo punto di vista, perché poi verrò alla mia rivalutazione avvenuta nel giro di giorni, però vorrei sentire la tua opinione. Allora, il mio punto di vista intanto è che è un libro che è come il film, si possono parlare in modo abbastanza avvicinato tutti e due, sono molto simili, si assomigliano tantissimo, e che Daisy Miller si intitola con un nome femminile, come Madame Bovary. A me è subito venuto in mente Madame Bovary, però c'è una differenza fondamentale che poi è il senso della scrittura, il senso della scrittura e il punto di vista. Ne parlavamo anche prima, io quando scrivo nelle mie storie metto racconto dal punto di vista di Susanna Marino, Madame Bovary è raccontato dal punto di vista di Madame Bovary, molto soggettivo poi. Qui noi entriamo nella sua mente, lo stesso Flaubert, invece quando leggiamo Daisy Miller, noi non sappiamo che cosa pensa Daisy Miller, è la storia del protagonista che si innamora di lei e non sappiamo, in realtà anche il protagonista è abbastanza impenetrabile, però lei assolutamente non si capisce se lo vuole o se non lo vuole, perché lei fa la civetta un po' con tutti, è una donna che vuole andare contro le convenzioni, quindi prima è ambientata in Svizzera, in queste terme Svizzere, lei si fa accompagnare a visitare un castello dal protagonista che è completamente rimbecillito come può essere Bordanovic quando vede Simil Shepard, non capisce nulla, mi accompagni lì, ma forse mi sono stufata, no ma sì, accompagnami lo stesso, insomma, e poi lei si ingelosisce per ogni stupidaggio, non si capisce se si ingelosisce davvero o se lo fa per fare la finta. Poi gli dà un appuntamento volante in Italia, dice io adesso vado in Italia perché lei è una donna che viaggia con il fratellino, con la madre, e lui allora la raggiunge in Italia e qui in Italia lei si sembra tutta attratta da questo giovannelli, questa figura di italiano che vuole sempre bello vedere come vengono raccontati gli italiani dalle persone, questi topos, questi luoghi comuni, un amante della musica che canta di continuo ai salotti, un po' stonato, si fa accompagnare sul cincio, in questa scena non voglio spoilerarla, però è veramente triste perché lui arriva lì tutto contento di vedere Daisy Miller, il protagonista che è anche americano come Daisy, tra l'altro, questo non l'ho precisato, e Daisy Miller a questa festa dice, ma adesso lo saluta con degnazione, dice, ora però dovrei andare sul pincio e poi incontrare un italiano molto affascinante, e allora la madre non puoi andare adesso all'imbrunire sul pincio, è pericoloso di notte una signorina al tramonto, e allora lei dice, mi puoi accompagnare tu a incontrare quest'italiano che mi interessa con cui passare la serata, quindi doppia umiliazione, tu pensi che lei è una stronza, e quindi diciamocelo pure che tutto il libro, come il film, è giocato sul fatto, ma lei è davvero innamorata di lui oppure no? Noi non siamo nella sua testa come Madame Bovary che sogna l'uomo che ha incontrato al ballo e vorrebbe rivederlo, invece è sposato con un medico di campagna, triste. Lei è imprescrutabile e a me ha ricordato tantissimo l'altro libro di Henry James, Giro di vite, perché in fondo Giro di vite di che cosa parla? Parla di una donna che fa la bambinaia a due bambini che si pensa che possono essere posseduti dai fantasmi, non si capisce mai se questi bambini sono buoni o sono cattivi, se i fantasmi esistono o se non esistono, che poi quello su cui, perché io amo il mostro del fantasma, perché si basa sul sospetto, non vedi tu subito il mostro, il sospetto, ma sarà un fantasma oppure sarà io che? Sarà la bambinaia che è pazza, che si immagina che ci sono questi bambini? Insomma tutto il libro è giocato su questa cosa, e anche qui Daisy Miller sarà innocente, sarà veramente buona, sarà veramente una stronza e tu poi alla fine ti porta a vedere una soluzione che non ti aspettavi chi erano i buoni, chi erano i cattivi. Non voglio spoilerare altro, però io trovo che dal punto di vista psicologico si è giocata molto bene. E trovi che il film renda quello che si legge nel romanzo? Sì, assolutamente sì. Hai visto prima il libro? Ho letto il libro, ho letto prima il libro e poi ho visto il film. Il libro ha fatto forse il film, essendo girato da Bordanovic, è più cupo del libro. Il libro è anche abbastanza cupo, però è tutto spumeggiante, è tutto allegro, poi a un certo punto ti accorgi che in realtà non sono proprio così le cose. Il finale del film di Bordanovic, di Daisy Miller, è un po' in finale dell'ultimo spettacolo. Io mi ricordo che c'è questa scena dove addirittura si vede il protagonista che vede le cose attraverso un velo, un velo funebre. Non so se ti ricordi il finale, c'è questo velo che poi lui vede la casa di lei, insomma. Poi non voglio dire troppo, però è veramente a questa sottile malinconia che fin dall'inizio questo senso di spumeggiante, quando tu ci ripensi lo trovi come quasi artificioso. Quindi l'ho trovato un film molto dark, non per niente Henry James comunque ha sempre raccontato un po' anche questo conflitto tra il perbenismo, il moralismo, tra come sia in realtà anche nell'epoca vittoriana, una cosa molto sentita e quindi ovviamente faceva soffrire molte persone. Un po' anche vediamo il fantasma della moralità. Come va a finire alla fine il giro di vita? Io spero che tutti quelli che ascoltano qui l'abbiano letto, come minimo abbiano visto il film Suspense di Jack Clayton, che è un altro cartissimo. Va a finire con un evento che è una catarsi, è una catarsi da un lato negativa e dall'altra positiva, se vogliamo. E anche Daisy Miller va a finire così in fondo. Sì, è una disamina, sai quando uno inizia a vedere un film e allora è un po' borbottoso, alla fine non riesce ovviamente ad arrivare, a ragionarci più di tanto. In realtà personalmente a me è capitato qualche giorno dopo di vedere il nuovo film di Lena Dunham. Tu sai chi è Lena Dunham? Lena Dunham. Tu non sai chi è, però tu l'hai già vista. L'hai già vista, almeno in C'era una volta a Hollywood. Ah, cosa faceva? È una, è una, è un'attrice, ma è anche, è un'attrice, regista, è un po' una gente di Tarantina, insomma. Comunque, tu sai che lei è una regista, è una regista, non la conosci, della consiglio perché è straordinaria. Ma cosa fai in C'era una volta a Hollywood? Eh non lo so, io l'ho scoperto adesso, in realtà io non sapevo come era fatta fisicamente lei, però ho visto che lei stava in C'era una volta a Hollywood, non mi ricordo, deve essere una, forse una delle ragazze, aspetta, fammi vedere che fa. Ah, c'era in American Horror, è vero, c'era anche in C'era una volta a Hollywood. Ah, ah, sono spiegato, secondo me, fa una delle amiche di Sharon Tate quando arrivano alla festa, quando arrivano che c'è quella bella, alla festa nella mansion di Playboy. Aspetta, vediamo un attimo. Però, per vedere, perché me la ricordo che era un po' robusta, ah no, non è lei, no. Ah no, io vedo qui una foto di lei che bacia a Brad Pitt, pensa a Bok, così è pazza, comunque è un personaggio assurdo, statizia. Non è lei, allora. Dobbiamo sapere. Ah no, fa una della, scusami, una del, ho capito. È una delle ragazze del ranch, no? Sì, allora la prima mi hanno fatto vedere un'altra foto, l'anno è di Masaidos. Vabbè, comunque, lei non è diventata poi così famosa in Italia, anche se comunque la serie tv che ha fatto, che si chiama Girls, ha avuto abbastanza successo e ha un suo seguito. Però fatto sta che comunque lei è una regista indipendente. E ha fatto sto film, io ho visto il suo ultimo film, che si chiama, in italiano si chiama Catherine e basta, però si chiama Catherine Called Birdie. Ok. e l'attrice protagonista è quella che è adesso diventata famosa come protagonista della serie di The Last of Us. Non so se l'hai vista, ma comunque è la serie che è più... Io ho capito, quella che è stata del videogame. Esatto, esatto, che è tratto dal gioco. Lei è diventata, non mi ricordo come si chiama, perché è notte qui e comincia a perdere colpi. Però... Ma oddio, che persona? Ah beh, è un problema. Ehm... Ehm... Comunque dai, vai, vai. Sì, ma è un double bill questa puntata. Un double bill, ok, benissimo. E... Dove sei? Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei... Sto cercando... Sto cercando... Eh, Bella Ramsey, ecco, non mi veniva. Comunque, se a voi fa schifo Bella Ramsey in The Last of Us, o se vi piace, andatevi a guardare sto film, perché è fantastica. È veramente fantastica. Quale film hai detto? Si chiama Catherine Cold Birdie. Ah beh. Si chiama Catherine, si trova, credo, su Netflix o su Amazon Prime. Comunque, fatto sta che è un film tratto anche questo da un romanzo e parla della vita di una ragazza adolescente nel medioevo. Però è visto come un film moderno. È divertentissimo, è una commedia. È una commedia. La ragazza adolescente nel medioevo è carino. Esatto, insomma, comunque, chiaramente con delle cose assurde che ci sono... Vabbè, non dico nulla, perché comunque è un film da vedere. Però ti ha fatto pensare a Desi Miller? No, mentre lo guardavo, mentre godevo della visione del film, pensavo, oddio, questa qui ha fatto sto film che come mi fa pensare a... Prima non ho pensato a Desi Miller, ho pensato a Marie Antoinette di Sofia Coppola. Sì? Ah, ma sto film qui è tipo Marie Antoinette di Sofia Coppola, però con un approccio diverso, chiaramente con una visione di lei, un po' una Woody Allen questa. Saprei, ma lei è lei, punto e basta. Cioè, ho visto anche sui film precedenti. Quindi ho detto... Aspetta, poi ho pensato, aspetta, ma Marie Antoinette è Desi Miller. E mi sono reso conto, e poi ho ragionato sul fatto che Sofia Coppola, prima di fare Marie Antoinette, ha fatto Il Giardino delle Verge di Suicide, che è un film stupendo per me. È bellissimo, sono d'accordo. Sì, assolutamente. E anche Lena Dunham ha fatto un film simile, si chiama... aspetta, vediamo com'è. Quindi si dice che possano essersi fatti influenzare da Desi Miller. Sì, ma la cosa interessante è che il film precedente che entrambe hanno fatto è un film molto simile all'ultimo spettacolo. Quindi entrambe sono influenzate da Peter Bogdanovich. Cioè, queste due autrici hanno fatto il loro... ecco, vedi, il suo primo film è Tiny Furniture, che è un film indipendente. Ah, può darsi, dici, sì, Bogdanovich è sicuramente l'atmosfera delle Verge di Suicide, secondo me, è stata mutuata. Cioè, la Coppola, secondo me, si è ispirata. Perché c'è questa necrofilia, c'è questa patina dark, oscura, che sembra tutto luminoso, ma in realtà non è così luminoso. Assolutamente, è chiaro. Se ci pensiamo anche al finale dell'ultimo spettacolo, quando c'è Jeff Bridges che va a vedere il film Fiume Rosso di Howard Dawks al cinema, e si sa che è l'ultimo momento che i loro due amici saranno insieme, perché poi lui partirà e diventerà una vittima comunque della guerra, della Corea, mi sembra, della Corea. Quindi c'è sempre qualcosa che è bello. Vanno al cinema, sembra una cosa allegra, come le scampagnate al pincio di Daisy Miller, la gita al Colosseo di Daisy Miller, che in realtà questo gita al Colosseo non è poi... non gli ha fatto più così bene come uno si aspettava. Quindi queste chiusure, queste chiusure cupe. Poi tra l'altro un'altra cosa da dire di questo film che mi ha colpito molto è il personaggio di Barry Brown. C'è l'attore stesso Barry Brown, l'ha fatto notare Quentin Tarantino, io non sapevo nulla, che era questo attore che interpreta il personaggio di Frederick Winterborn, che è poi il punto di vista, è colui che è innamorato di Daisy Miller. Ma anche qui io ho detto colui che è innamorato, ma chi leggerà il libro vedrà il film, vedrà che non si sa se poi è così innamorato, ci sono tante sottiliezze, tante sfumature che poi verranno percepite, fino a che punto le piace o non gli piace. E comunque questo attore farà poi una fine molto triste, perché morirà mi pare a 27 anni, è molto giovane, ha 30 anni, non so, non ricordo, suicida. Quindi nello stesso tempo lui era anche molto amico di Jeff Bridges, come nell'ultimo spettacolo. Quindi insomma, sembra un po' che tutti questi personaggi siano legati da un destino oscuro, quasi una maledizione. Una cosa poi che mi è piaciuta molto di questo Barry Brown, che onestamente non conoscevo, e mi ha incuriosito un po' come Sole d'Admiranda, devo essere sincera, chissà che non compaia in qualche storia di Susanne, che lui in più era anche un critico di cinema. E lui scriveva, mi sono immedesimata perché ho detto come a me piaceva ogni tanto scrivere delle recensioni, delle cose, lui da giovane scriveva su una rivista stile Fangoria, e aveva fatto pure tutto un articolo su Bela Lugosi, scusate, su Bela Lugosi, dove si parlava della dipendenza dalle droghe di Bela Lugosi. Un articolo molto bello che tra l'altro Quentin ha voluto omaggiarlo pubblicandolo proprio sul suo saggio. E questo è stato un bel omaggio perché il capitolo di Desi Miller si chiude dicendo proprio non tutti lo conoscono, io ne sto parlando, e vorrei che voi ve lo ricordaste alla fine. Finisce in un modo poi tutto tarantiniano, come lo racconta, molto malinconico, che sembra il finale dell'ultimo spettacolo, il finale di Desi Miller, come se si fosse tradotto in realtà. E quindi... Bellissima l'interpretazione della lettura del capitolo che riprende un po' lo stile. Beh, può anche darsi che effettivamente Quentin si medessimi in quella maniera, perché ci mette veramente... Sì, è affezionato questa... Sacralità, sì. Ma lui è affezionato a Bogdanovic. Cioè, è chiaro che Bogdanovic è un personaggio molto strano. Bogdanovic potrebbe essere il mio regista preferito e allo stesso tempo regista che odio... Cioè, nel senso che... Adiericurale. No, nel senso che Bogdanovic, ecco, rendendomi conto... Comunque si chiama Sharpstick, l'altro film di Lena Dunham, non mi ricordavo. Zippo tussuto. Volevo leggere un pezzetto, se mi consenti. Posso? Assolutamente. Che lingue le leggi? La chiusura del capitolo di Tarantino di Desi Miller, che dice, poi lo stesso anno, il 1978, all'età di 27 anni, Barry Brown si tolse la vita, trasformando tutti noi, a cui era piaciuto Barry Brown alla fine di Desi Miller, nel suo stesso personaggio, Vintenborn. Chi era Barry Brown? Qual è il senso di tutto ciò? Sono l'unico che si ricorda di lui? È sufficiente? Finisce così? Molto bordanoviciano questo finale, non trovi? Sì, sì. Ecco questo volevo dire. Scusa, lascio te. No, no, prego. No, no, no. È un momento bellissimo, nel senso, è fantastico come in realtà ti fai prendere all'interno della scrittura e quindi l'assorbi in maniera... Chiaramente, essendo una scrittrice, non so, ti viene spontaneo, però anche nella lettura appunto di un saggio, però sei riuscito a decifrare uno stile. È quello un finale stiloso, è un finale stiloso quello, e lui, Vinten, secondo me, è uno dei... veramente lo stile per eccellenza. Magari puoi raccontarti anche delle storie che hai già visto, però come la racconta lui, non le racconta nessuno, io credo. Pal fiction è stiloso, perché poi alla fine, qual è la trama di pal fiction? Non è che ci interessa per la trama. Sì, sì, è la maniera in cui lo raccoglie. Qual è il tuo film preferito? Anzi, la tua... Questa cosa magari si parla spesso, si dice, sai quante volte l'hai fatta pure tu? Io ho notato che nel tempo, se io la faccio oggi, poi la rifaccio domani, l'elenco dei miei film preferiti di Tarantino ogni volta cambia. Poco male, anche lui. Perché cambia con l'età, ecco. Qual è il film di Quentin Tarantino che non ti piace? Ah, che non mi piace. No, quale mi piace di più. Ah, mi è fottuto. Pensavo mi chiedessi... È più triste di dire qual è quello che mi piace di meno, perché mi dispiace offenderlo, potrei dirti quello che... Comunque, quello che mi piace... Ti perdonerà. Va bene, allora, speriamo che non vedo questo... È assolutamente Django. Ah, ok. Non mi piace, non mi piace, perché l'ho trovato un po' una ripresa. Allora, non mi piace, nel senso che anziché dargli dieci più, gli posso dare nove e mezzo, ecco. Quindi, non è che... Insomma, però, dico, non mi convince, nel senso che non ha un protagonista, cioè Jamie Foxx non ha la statura di altri suoi, il carisma, non ha il carisma di fare Django. Io penso più... Ma secondo te, se l'avesse fatto... se l'avessi fatto Django, penso che cambia... Scusa se... Ogni tanto andiamo in overlapping come i dialoghi di Bogdanovic, ma se l'avesse fatto Will Smith, secondo te sarebbe funzionato? Perché io, anche io, non amo tantissimo Django, devo dire, Django Uncente. Eh, dovrei vedere, non lo so, dovrei... bisognerebbe fare... rivedere come l'avrebbe fatto. Bisognerebbe rigirare il film con Will Smith. Mentre io mi vedo un Samuel Jackson che è carismaticissimo, cioè nelle scene, di tutte le varie scene che ha interpretato, invece io mi vedo un Jamie Foxx, a meno che fa Django, io mi ricordo di più di Caprio, mi ricordo di più... come si chiama? L'altro attore che faceva il dentista, cioè non mi ha colpito. E poi comunque il finale era prevedibile, l'ho trovato anche un po' lento. Ecco, Christopher Waltz. Quindi non lo trovo, non lo trovo così asciutto come avrei voluto. Poi per carità anche Bastardi Senzagloria che è il mio preferito di Tarantino insieme alle Iene non è così asciutto. Però, però ci mette delle cose che ecco, ti emozionano. Io, il mio personaggio preferito è quello di Shoshanna, non a caso, va bene, è un caso in realtà che si chiami come Susanna Marino, però, che crede nel cinema, pensa che il cinema possa cambiare la realtà, quella scena dell'incendio contro i nazisti, a me mi ha emozionato con la musica di David Bowie, non c'è una cosa simile in Django, per esempio, non, quest'uso della musica che lui fa, non lo fa, non è così potente in un film, mentre nelle Iene ricordiamo Stack and Middle Review, o tutta la compilation, ci sono sempre in Pulp Fiction, non ne parliamo, in Jackie Brown anche, insomma, ci sono dei pezzi musicali, anche, anche l'inter, Jackie Brown è molto bello, anche se è sottovalutato come film, perché è un film anche molto romantico, lui non è mai romantico nei suoi film, in Jackie Brown lo è, in questa storia, comunque, tra lui e lei, questi amici, questi sguardi, questo finale amaro, invece, secondo me, Django non ha niente di che non sia già stato visto in altri film e non ha una sua cifra stilistica così forte, ecco, però. Sì, sono decisamente d'accordo con tutto quello che hai detto, perché anche per me il film che, io ho provato a verlo più di una volta, ma è quello che mi emoziona di meno, ed è vero che, ma anche, io ci ho pensato, ok, Jamie Fox è una seconda scelta, ma anche Will Smith non sarebbe funzionato, cioè, non riesco a immaginare sai, il miglior attore vivente è Denzel Washington, ma Denzel Washington non aveva più l'età per fare quella parte, e quindi non sono riuscito a identificare... Poteva rendere più sconosciuto, poteva fare più casting, trovarmi... Ma sai che Tarantino da quando... Secondo me parla anche di quello, Jack Hancein parla di schiavitù, ma parla della schiavitù di Tarantino all'interno del sistema cinematografico, Tarantino è un bel po' di tempo che si è rotto le scatole, e chiaramente è un bel po' di tempo che fa polemica con Harvey Weinstein, perché Death Proof, Prova di morte, cioè, fondamentalmente, chi è la prima vittima di Stunt and Mike? è la vittima conosciuta, nota, Rose McGowan di Harvey Weinstein, e loro menano questo Womanizer alla fine del film, insomma... Io in realtà il film che erano... Altro film a prova di morte sottovalutato, che... Sì, ma perché è andato male? Ehm... Sai, avevo sentito Kevin Smith recentemente parlava di sta cosa, dice ero con Kenti Tarantino, mi ha fatto ridere, perché dice ero con Kenti Tarantino e nel periodo di Death Proof è andato male, e lui era incazzatissimo, lui era proprio depressissimo, incazzato nero, perché tu perdi potere, no? Anche Kenti Tarantino può perdere potere, e dalle pagine di Cinema Speculation una cosa che si nota è che Kenti Tarantino è un regista viziato, cioè, Kenti Tarantino quando scrive di Paul Schrader, ma questo ne abbiamo parlato con Simone Scafiri quando abbiamo parlato di Arcoro, ne lo scrive di Paul Schrader e dice, ma scusa, ma Paul Schrader si lamenta che lui non poteva fare quello che voleva quando ha girato il film, ma scusa, ma se non... se ti lamenti così, perché l'hai fatto il film? Beh, questa è una cosa che è abbastanza scioccante, perché? Perché se tu ci hai ragione, Kenti Tarantino, Quentin Tarantino fondamentalmente ha avuto sempre successo e quindi ha potuto fare tutto quello che voleva. L'unico cambiamento che c'è stato a causa dell'insuccesso a prova di morte è che lui ha dovuto prendere da allora in poi sempre delle grosse star e non poter fare come voleva. Quentin Tarantino ai tempi di Kill Bill ha mandato a fare in culo Warren Bitti cioè che doveva essere l'interprete di Bill e poi ha preso Carradine quindi cioè non è una cosa cioè Kenti Tarantino praticamente è uno che poteva fare veramente quello che gli pareva. Dopo le cose sono cambiate. Io ho percepito questo dolore in The Jungle Unchained cioè capito di essere in una situazione che lui non si riuscì a gestire più mentre se dove e tutti un po' i suoi film riesco un po' a identificare qualcosa di personale che lui sta raccontando l'unico che non riesco a capire di che cosa voleva parlare è proprio Inglourious Busters Ah perché Inglourious Busters Come di cosa voleva parlare? Dei nazisti No però sì però nella sua vita sono a metà fora dei che sti nazisti Sti nazisti Eh cioè C'è nel senso C'è la dinamica Degli assolutismi Del cinema che va oltre l'assolutismo oltre il pensiero convenzionale oltre no a ragionare tutti gli stessi Mi sembra un cioè è un grande omaggio al cinema no? Sì E al potere del cinema sì c'è c'è questo si sente tanto rabbia anche in questo senso cioè secondo me è un film arrabbiato in qualche modo Inglourious Busters però non non sono riuscito non lo so a leggermi a immaginarmi ho detto ok io devo rilasciare devo vomitare questa storia qui c'ho bisogno di dire qualcosa quello che gli era successo era appunto a prova di morte c'è l'insuccesso di a prova di morte ma secondo me era troppo fresco perché lui veramente presto poi è stato un film che ha fatto molto scusate vi permetto di dire secondo me chi ha visto prova di morte si sarà fatto la stessa domanda che si è fatto il mio lettore quando ho visto l'inseguimento di tutto quello rosso ma perché era il caso non succede niente ma cioè lui lì ha seguito un po' lo stile che voleva non è stato assolutamente commerciale pazzesco perché ha fatto vedere donne fighe tettone con le gambe lunghe che vanno in macchina che fanno le spede serial killer commerciali ma non è stato commerciale perché ha fatto quel cavolo che voleva dal cinema del drive-in allora poi ha pensato invece con Django con Django un'altra cosa perché ha dato alla gente quello che la gente voleva esattamente era la posizione in cui si trovava ma guarda che io quando è uscito il progetto grand house del double bill io mi ricordo che era impazzito completamente ci ho detto questa sarà una figata noi andiamo al cinema a vedere due film e poi con il mezzo quei trailer che tra l'altro sono uno meglio dell'altro il problema di sta cosa qui è che planet terror è bello stilisticamente però dopo un po' è un po' troppo una gredinata secondo me insomma non è il meglio di robert rodriguez che comunque aveva fatto i due sensiti che era una cosa pure che mi sono completamente impazzito all'epoca e poi il problema è stato che comunque quando arvin wayne ha visto a prova di morte non è che non ha capito di che cosa parlava e gli sono girate le palle e quindi ha fatto uscire non so se questa cosa la sapevi ha fatto uscire il film come double billy grand house come operazione grand house che era quello che era stato promosso per un breve periodo sì e poi gli ha fatti ha detto no li dovete rimontare li ha separati comunque li ha separati e sono andati male li ha fatti andare male capito sì ah dici questo non sapevo questa storia è chiaro che secondo me il film allora a me sono piaciuti entrambi sia prova di morte che planet terror planet terror è un film più facile perché divertente è cazzone e appena lo vedi però non ci sta da solo secondo me è facile però secondo me perché cosa c'è da capire niente cosa c'è da non ci sono citazioni c'è citazioni film di zombie ok invece il grand house la pellicola a ruinare invece la prova di morte è un film che è più un club perché è un'imitazione intellettuale dei film di Dreving del Dreving che Quentin guardava da ragazzino però poi c'è tutto il discorso metacinematografico perché lui ha preso una stuntman vera che è donna che fa fuori uno stuntman finto quindi ci ha messo anche tutto questo elemento ma lì c'è anche il fatto che è reale ma non così reale e quindi c'è tutto un discorso anche molto metacinematografico ma molto sottile che però uno se lo vede così dice ah che palle ci sono un inseguimento poi però vai a vedere tutti i riferimenti alla sua stuntman utilizzata in Kill Bill al personaggio di Kurt Russell che fa il cazzone a tutto a tutto il resto di tutte le altre citazioni di quei film che ha arricchito la macchina quella che è comparsa in punto zero insomma ci sono tante cose i road movie ci ha messo tanta roba che a una prima vista magari cioè secondo me è più facile che diventi più venga apprezzato più in seguito che subito che uno dice allora che succede hanno preso a botte lo stuntman finita qua invece l'altro si dispende ma un'altra cosa che c'è secondo me in prova di morte è il fatto che sai Zoe Bell era lo stuntman di Uma Thurman all'epoca non si sapeva però Uma Thurman aveva avuto l'incidente e aveva tentato la querela e lui fa vedere a Uma Thurman che la sua stuntman non è che guida la macchina ma si mette perché quella roba lì l'ha fatta veramente Zoe Bell e l'altra secondo me è un tentato omicidio cioè sinceramente allora io ti dico ma lei è una stuntman insomma ha accettato di farlo sì quindi ha citato anche quella storia dell'incidente sul set quindi se vuoi ha fatto un meta meta eh sì sì assolutamente e poi cioè il film secondo me a prova di morte il problema che c'ha è che doveva durare un'ora perché quello era il piano e invece per farlo durare un'ora e mezzo hanno aggiunto delle robe qui e là però voglio dire non lo so almeno come li vedo io il film la parte del dell'incidente la parte dell'inseguimento sono qualcosa cioè sono un orgasmo visivo io non lo so non vado a vedere i i Fast and Furious purtroppo insomma dovevo vedere quello di James Wan però però voglio dire c'è proprio fichissimo non è mai veramente non mai no però insomma è da tanto che non senza digitale anche qua è tutta una cosa fatta proprio reale come il cinema del drive-in dell'epoca con una vera stante ma anche esatto fatto proprio nello stile come allora invece Fast and Furious ci metterà in un sacco di digitale figure che e qui e poi a me piace molto via prova di morte questa coloritura da fiaba visto che il primo libro che ho scritto è il re dei topi e altre favole oscure quello è Tarantino usa la fiaba il lupo cattivo il lupo cattivo di Kurt Russell che con le moine riesce a far salire il cappuccetto rosso sulla sua macchina c'è molto è proprio un personaggio proprio un archetipo del cattivone come lo fa è geniale tutta quell'atmosfera anche così erotica e anche horror poi alla fine e poi anche la citazione di Psycho perché tu ti immagini che i personaggi siano quelli e invece poi a un certo punto sono completamente degli altri quindi sono tante cose anche sul cinema che piace a Quentin in tanti ammiccamenti mi sarebbe piaciuto vedere Stuntman Mike fatto da Mickey Rourke come doveva essere effettivamente però Mickey Rourke purtroppo è pazzo quindi però che la Truss è sempre un figo diciamo sì sì che è brava quindi però effettivamente anche sì sì anche Mickey Rourke sarebbe stato un film diverso sarebbe stato molto più scuro probabilmente molto più sì meno ironico sarebbe perché sai quello che dicevamo di The Movie Critic è il fatto che si diceva che lui deve scegliere poi i suoi progetti ma si diceva che Quentin Tarantino avrebbe fatto come suo ultimo film un horror dato che i suoi film sono memorabili il suo ultimo film doveva essere memorabile ci si aspettava che il suo ultimo film se fosse stato un horror sarebbe stato chiaramente uno dei film horror più grandi della storia sicuro certo e adesso non credo che io credo che The Movie Critic sia una sorta di thriller non ho capito bene ci sono c'è questo fatto che indagano sulla morte non ho capito bene però non credo che sia un horror non credo che sia secondo me secondo me secondo me è un thriller noir un po' appunto come Boogie Nights che ha questo elemento anche non lo so o mi ricordo un po' anche quell'altro film adesso mi ricordo non mi ricordo più il titolo che hanno girato anche sempre legato con la vicenda vabbè io spero comunque che prendano My Stell ma mi sa che si è fuori fuori età è troppo bello beh lui ha detto che deve avere no in realtà mi sa che io avevo avevo messo su Facebook una praticamente tutti gli attori che hanno l'età per fare quel personaggio perché lui ha detto deve avere intorno ai 35 anni e quindi gli attori tra gli attori e i list che ma ma il 20 a quanti anni ha adesso My Stell è tra quelli anzi spero proprio che lo faccia lui a questo punto anch'io perché ho visto The Offer l'ho finito di guardare ieri è fantastico 36 anni io quello lo devo trovare ah sì sì è vero quindi ci può stare speriamo faccio il tipo tu l'hai visto sì nella serie di Refs certo certo quello adorato in Too Old to Die Sì sinceramente tanto non ci sente nessuno siamo solo in diretta no dico sinceramente a me Too Old To Die Young mi è piaciuta tantissimo le serie anche perché è tutta esoterica tarocchi tutte queste robe qui insomma quindi io rossiana è dedicata insomma se no ti ammazzo sì va bene vai come? non criticare Refs se no 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 ma io lo conosco bene quindi posso cioè è un è un vecchio veramente un vecchio amico l'altro l'ho conosciuto l'ho conosciuto l'ho incontrato se state a Venezia di nuovo ha conosciuto Isabella e no però devo dire che comunque sono una fan a critica di Refs sono una fan a critica di Refs ne può fare qualunque stronzata per me la fa sempre con stile anche lui però certo non cerco di essere obiettiva dai vai di il difetto quindi hai visto l'ultima serie sì sì l'ho anche recente l'ultima serie io l'ho vista lì a Venezia ho vista tutta ad un fiato e so cioè il punto è questo veramente ovviamente a Nicola si voglio bene insomma io conosco i suoi genitori lui conosce i miei capito come te capito tu li conosci i miei io non conosco il tuo papà però è vero fatti conoscere i miei così puoi criticarmi ecco no dico però il punto è questo voglio dire Tuolto Da Young è la cosa migliore a livello visivo che Nicola abbia mai fatto cioè Tuolto Da Young è meglio di Drive Tuolto Da Young è meglio di sia di sia insomma mi piace particolarmente Bronson cioè lui ha avuto controllo Da Young possibilità di lavorare sul sul suo linguaggio personale che è il linguaggio simbolico e visivo perché lui è veramente cioè noi non riesci a mandarti un mese se ti manda un sms ti scrive che non si capisce niente lui per me non sa scrivere cioè è una cosa assurda però insomma è dislessico in maniera pesante quindi lui ha sviluppato veramente le cose attraverso e secondo me è qualcosa di notevole chiaramente durante la pandemia ho detto vabbè invece di stare qui senza fare niente giriamo un'altra cosa sicuramente interessante la prima parte però è un passo indietro obiettivamente come Copenhagen Cowboys comunque l'ho percepito come un passo indietro se non fosse altro perché a livello visivo non è così potente come quello che ha fatto immediatamente prima e fossi stato lui dato che comunque è parte del suo stile secondo te non è così potente l'ultimo dei Cowboy a me non è piaciuto molto la deriva del fantasy del finale perché è iniziato bene secondo me mi piaceva molto il cattivo biondo la madre l'atmosfera di quella villa che sembra così inizia con i rom tutta quella cosa lì la roba lì è fighissima questa atmosfera marcia questi questi criminali il suo personaggio di lei che è angelica ma non troppo che poi era questo lato poi però il finale quando non voglio spoilerare per nessuno però quando prende sta deriva fantasy anche devo dire la verità anche tu old to die young l'ultima puntata non mi ha fatto impazzire era molto bello tutta questa narrazione poi l'ultima puntata che durava tra l'altro anche poco non lo so ti sei corrotta anche tu però comunque essendo essendo devo dire comunque che è un figo quindi nonostante questo lo stimerò sempre le cose che fa sono quindi anche solo per le emozioni che mi dà il trip di vedere delle scene che mi fanno venire voglia di scrivere oltretutto perché poi non dimentichi quindi anche solo per questo lo amo non dimentichiamoci che anche la copertina tra l'altro del mio romanzo tutto quel viola ha anche dei riferimenti come colori se vogliamo che è molto bello ma chi l'ha fatta quella allora cercate su instagram patrizio due terzi patrizio cipollini bravissimo fotografo che lui su instagram si chiama patrizio due terzi però il suo nome è reale senza nick patrizio cipollini e lui fa in realtà non è una sua classica foto perché lui fa delle polaroid vintage quindi c'è proprio quest'arte della polaroid che è unica quindi ci sta molto anche bene con Susanna che nella nostra società tu puoi farti mille foto ed è verrà una bene però di polaroid ne puoi fare solo una devi pensare prima alla luce alla posizione della modella cioè quindi lui è specializzato in polaroid però mi aveva fatto delle polaroid un servizio fotografico a casa mia e poi ha visto un armadio nel mio corridoio nel mio corridoio devo dire che c'è una luce rossa perché c'è come una luce cinese una lampada cinese quindi il corridoio è un po' la profonda rossa ha visto questo armadio vintage con tutto un vetro strano e mi ha detto ah mettiti un po' al di là di quel vetro della porta dell'armadio e urla e scherzando mi ha fatto questa foto così ma non è una polaroid una foto digitale e poi guardando mi ha detto cavoli quant'è argentiana sta foto su un solo scatto e poi si doveva pensare alla copertina del libro e all'editore abbiamo fatto vedere una serie sia di polaroid classiche che di questo scatto qua e lui si è innamorato di questo che poi sono io tra l'altro però non l'ho scritto perché però ci stava ci è piaciuta scusa però ci ha lavorato su nel senso ci ha fatto graficamente poi i grafici l'ha detto che era tutta rossa la foto era la profonda rosso però un libro che sentiva tutto quel viola allora è stata è stata resa un po' viola però quella originale è rossa con la luce rossa del corridoio non ci sta chi ce l'ha quella originale la potete vedere su instagram c'è sul mio profilo nelle anteprime ok ok se il suo riscampo è tutto quello rosso magari ce lo rimettiamo senti io ce l'ho ancora in italia la copia che mi hai mandato spero che mi hai iscritto qualcosa certo assolutamente lo scoprirò solo vivendo ci ha tirato alla Cina Susanna più facile che lo venga a prendere io in italia speriamo di vederci la prossima volta che verrò assolutamente mi piace forse stavolta sì forse stavolta sì evviva vedremo come sai siamo sempre in alto mare comunque volevo ringraziarti Cristiana perché ti ho tenuto un sacco di tempo normalmente pagliamo un'ora un'ora e mezzo però insomma vabbè queste chiacchierate insomma vorremmo non finissero mai e se quando comunque vuoi essere un double bill l'abbiamo fatto quindi giustamente alla Quentin Tarantino decisamente e ringrazio molto per l'ospitalità su Mind Cathedral grazie grazie a te e insomma vabbè noi ci sentiamo tanto privatamente quindi per chi ci per chi ci segue insomma se ragazzi spingete capito con se non l'avete ancora comprato vuol dire siete pazzi perché cosa fate troppo vuolo che ha tutto quel viola insomma mi raccomando non mi fate fare brutta figura capito perché non mi fate fare brutta figura con questo rospo con rospo niente e iscrivetevi al canale grazie grazie di tutto grazie a te grazie Cri ciao ciao ragazzi e buonanotte tu rimani Cri aspetta è che